Sono stati dalla polizia? La roba è scolosi! Scolosi! Perché là sotto c'è altre due persone vive. Sono stati pagati in preparazioni. Sono stati fatti in caldo! No c'è la polizia? Che fai nel passaggio? Allora! Sono stati fatti in caldo. Qui c'è il lavoro? Grazie a tutti. Grazie a tutti.